Donne al centro di un percorso di riflessione, ha un cammino soprattutto da compiere insieme e in questa occasione al Villaggio della Salute è importante ribadire anche tutti i fili di una rete che cammina veramente insieme nel quotidiano. Sì, io sono veramente molto soddisfatta e felice perché da tre anni, dalla nascita del nostro club Matera di Sor Optimist International che è appunto un'associazione di donne che si occupa anche di prevenzione della salute oltre che di prevenzione della violenza e di promozione della condizione femminile nei luoghi di lavoro e in tutte le condizioni sociali in cui la donna si muove. Ecco, a Matera vedo una bella alleanza tra diverse associazioni e quindi mi viene da dire che le donne quando si mettono insieme riescono veramente a muovere il mondo. Non è retorica ma in questi tre anni abbiamo veramente fatto in modo che tutte le associazioni di donne fossero insieme nel dare una risposta comune alla prevenzione e alla salute. Anche noi ci occupiamo di medicina di genere e quindi all'interno delle pari opportunità anche appunto la cura della salute al femminile rientra a pieno e quindi naturalmente noi siamo assolutamente disponibili. Oggi rappresentiamo anche come club il Bureau Nazionale per poter portare delle proposte e quindi ci aspettiamo che da Matera nascano delle proposte che possono trovare poi spazio, luogo anche all'interno del Bureau Nazionale e quindi delle politiche nazionali sulle pari opportunità. Un'occasione questa che si concretizzerà effettivamente nel 2024 ma a cui avete lavorato da tempo e che ovviamente non necessita di una data specifica per avere il suo start perché ogni giorno è importante. Assolutamente. Iniziamo già oggi a fare il programma con la nuova Presidente eletta che nel 2024-2025 attuerà già le azioni che mettiamo in campo e probabilmente non anticipo troppo ma Matera vedrà un appuntamento molto importante a livello europeo nell'ospitare diverse delegate di Sor Optimist per relazionarsi con la città di Matera.